Benvenuti a Polla, la città romana e la porta del Vallo di Diano. In questo video vi racconto una delle tradizioni popolari più belle sentite del nostro territorio, la processione di Sant'Antoniello a Polla, onore al Santo, onore a Polla e ai Pollesi. Una vera emozione parteciparvi, a Polla il 12 giugno non è un semplice giorno, ma il giorno. La sera dal convento di Sant'Antonio, annunciata dagli spari, discende per le vie del paese la statua del Santo. Ogni quartiere aspetta Andunduccio, con un grosso falò intorno al quale il Santo verrà portato per tre volte in giro da quattro fedeli del quartiere. Una tradizione che mischia sacro e profano. Pare che sia stata una giovane donna a dare vita circa un secolo fa a questo importante evento. I quartieri si sfidano a fare il falò più bello, iniziando dalla mattina ai preparativi. Gli uomini, nonni e bambini intendi a raccogliere la legna ad ardere, mentre le donne a preparare le gustose pietanze. In attesa dell'arrivo di Andunduccio, in ogni quartiere si mangia e si beve e si trascorre una serata all'insegna dell'allegria. Il paese, per un giorno, è tutto unito nel celebrare Sant'Antoniello. Dopo aver girato tutto il paese, arrivati nuovamente al convento, il Santo verrà fatto entrare in maniera caratteristica e i tanti fedeli rimasti trascorreranno la nottata degustando cibo e buon vino. Alla fine verrà premiato il quartiere con il falò più bello e accogliente. Una tradizione da vivere.